Ciao a tutti, in questo video parleremo di ciò che sta accadendo tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che dopo essere state insieme a cena in un locale di Milano hanno scatenato una vera e iniziare iscriviti al canale ricordando che il tuo supporto per noi è fondamentale. Per chi non conoscesse il retroscena dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, queste due bellissime carismatiche donne erano note per essere acerrime rivali. I loro faccia a faccia nella casa del Grande Fratello erano stati memorabili e il loro rapporto non è mai stato idilliaco a dir poco. Tuttavia, durante il periodo di reclusione nel reality, Oriana si era dimostrata solidale nei confronti di Antonella quando esplose il famoso Van Gate. In quell'occasione l'ex schermitrice rimase sconvolta quando scoprì che l'allora fidanzato Edoardo Donna Maria aveva palpeggiato il seno di Nicole Murgia. Sorprendentemente Oriana si schierò dalla parte di Antonella e le offrì il suo conforto. Ma il gesto recente di pace tra le due ex vippone ha scatenato le reazioni contrastanti dei fan. Alcuni hanno apprezzato questa riunione, soprattutto perché le dinamiche di reality appartengono al passato. Tuttavia, altri utenti hanno attaccato le due donne accusandole di essere false e mettendo in discussione la sincerità della loro amicizia. In particolare, i cosiddetti Incorvassi, fan di Nicole Incorvaia ed Edoardo Tavassi, non sono stati teneri con la regina e la doc. La tregua tra Oriana e Antonella potrebbe segnare un momento di svolta poiché la venezuelana è molto amica di Nicole che è nemica storica di Antonella. Questo inaspettato avvicinamento di Oriana e Antonella ci fa sorgere una domanda. Come avranno preso la notizia Nicole e Tavassi? Cosa ne pensate voi di questa situazione? Lasciateci i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie di gossip. Grazie di cuore e a presto!